e buon pomeriggio da Silvia De Martino qui su Radio Napoli centrale pronti per la nostra ultima puntata della settimana di fuori dagli schemi il che vuol dire chi ci segue abitualmente lo sa vuol dire probabile formazione del Frosinone probabile formazione del Napoli e pronostici insieme a voi ci andiamo a preparare già dal venerdì alla partita di domenica alla mezza dodici e trenta allo stadio Diego Armando Maradona si scende in campo scendono in campo proprio Napoli e Frosinone e ce le iniziamo a studiare insieme già da oggi questa partita e partiamo proprio con il report dell'allenamento del Napoli gli azzurri sono a lavoro per preparare questo match hanno iniziato la seconda la sessione con attivazione e circuito atletico chiusura con lavoro tecnico tattico partitina a campo ridotto ma questo non è quello di ieri niente scherzavo l'ho letto cinque secondi fa ma non lo vedo ancora quindi lo leggiamo dopo il report dell'allenamento del Napoli l'ho letto cinque secondi fa il mail continua continua a bannarmi il sito del del Napoli lo leggiamo tra pochissimo il report dell'allenamento io vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la sezione dei commenti su Facebook YouTube Twitter e Twitch potete interagire ehm anche tramite il numero di telefono intervenendo sia direttamente qui allo zero otto chiamandoci allo zero otto uno diciannove cinquantuno trentotto trentasei o anche mandandoci messaggi su WhatsApp o messaggi vocali su WhatsApp anche delle partite abbiamo da commentare oggi perché si è conclusi sono conclusi gli impegni in ehm europei quindi abbiamo visto questa Atalanta che vince zero a tre ad Anfield l'Atalanta che vince contro il Liverpool la Roma che si impone uno a zero sul Milan e il pareggio della Fiorentina contro il Vittoria Pelzen anche se noi oggi piano piano ci andiamo a preparare la partita di Napoli Frosinone tra Napoli e Frosinone e allora fatemi andare subito da Sasapengue ciao Sasapengue buongiorno a te buon pomeriggio anzi ma mi devi leggere il report dell'allenamento del Napoli perché sennò io non inizio la puntata. Buon pomeriggio te lo leggo te lo leggo lo trovo lo trovo non lo ricordo a memoria quindi diciamo lo leggo un attimo perché se no ricordarlo anche a me comunque buon pomeriggio a tutti oggi parliamo delle formazioni allora il Napoli si è allenato questa mattina sappiamo dove al Conami Training Center quindi lo leggiamo proprio per la squadra ha lavorato sul campo uno iniziando la sessione con attivazione e Torello successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico chiusura di seduta con partitina a campo ridotto Politano ha lavorato in gruppo Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo quindi Politano tutto a posto Juan Jesus è ritornato diciamo a disposizione e Olivera già sta lavorando un po' sta facendo un po' di personalizzato però sappiamo no che ci vogliono una quindicina ventina di giorni quindi tra Frosinone e Empoli non credo che che vediamo il nostro Mattias Olivera e niente io non lo posso leggere il report dell'allenamento del Napoli ogni tanto secondo me da computer non esce ma da cellulare esce non lo so non lo so a me non esce ad ogni modo abbiamo visto le italiane scendere in campo sui terreni europei e c'è stato questo 0 a 3 dell'Atalanta ovviamente cattura l'occhio a un certo punto se guarda anche solo se guardi i risultati finali delle partite lo 0 a 3 ad Anfield cattura l'occhio anche la Roma che vince 1 a 0 sul Milan anche se ovviamente l'1 a 0 è facilmente ribaltabile come risultato che mi dici di questi match ieri ieri abbiamo visto un po' il cosiddetto karma no perché ieri il il Milan parla di di un rigore non dato di una gestione arbitrale un po' particolare diciamo che poi può capitare a noi può capitare a loro e poi dipende dalle stagioni comunque al di là dell'ironia e poi tanto ironia non è parliamo delle prestazioni ehm Milan-Ruma sì io potrei dire una partita divisa no al primo tempo la Roma mi è piaciuta tanto nel secondo tempo il Milan diciamo ha cercato di prendere campo però non è stato proprio precisissimo non mi sono piaciute tanto le scelte di Pioli eh e come diventa ecco anche è difficile gestire determinati chiamiamoli campioni come Leao che ieri è stato veramente eh fuori dalla gara senza senza alcun tipo di motivo è lì è un calciatore che ovviamente ti incide la completa prestazione perché uno eh sappiamo che il Milan anche andando a vedere quelle che sono per esempio le hit map della costruzione Pioli sviluppa tantissimo sulla sinistra e quando c'è la giornata di Leao che non è quella corretta ne paga tutta la squadra comunque una partita che alla fine ha visto la vittoria della Roma però secondo me era giusto un pareggio e si giocherà tutta all'Olimpio però è dura sappiamo quanta vicinanza anche danno i tifosi alla propria squadra soprattutto in queste occasioni poi passiamo un attimo a parlare della Fiorentina così poi arriviamo all'ultima quella lì più interessante la Fiorentina che pareggia col Vittoria Pelsen una partita come al solito alla italiano dominata giocata bene eh che si giocava contro una squadra che tendenzialmente molto chiusa eh se dobbiamo trovare un vero difetto al di là di quelle sciocchezze che dicono su italiano sulla fase difensiva io credo che il problema ad oggi di italiano è quello che quando trova una difesa organizzata è una squadra a blocco basso trova tantissime difficoltà dobbiamo dargli l'alibi però degli attaccanti che la Fiorentina non ha questi attaccanti proprio fortissimi però diciamo se dobbiamo mettergli una piccola etichetta no? Se vogliamo attaccare questo post-it sulla lavagnetta eh quando andiamo a parlare di italiano probabilmente è quello dello dello sfruttare meglio secondo me anche eh la la gestione proprio tattica della eh della fase offensiva un po' come aveva Sarri no? Sarri ti ricordi quanta difficoltà trovava di fronte alle squadre che si difendevano blocco basso e questo l'abbiamo visto ma è una partita abbastanza indirizzata perché poi a Firenze la Fiorentina dovrebbe giocarsela eh diciamo a una percentuale alta di passare il tutto. Chiudiamo con con Liverpool l'Atalanta eh lì abbiamo visto. Dulcis in fundo proprio. Dulcis in fundo brava brava Dulcis in fundo è una partita dove per esempio lì no a me non è piaciuta la gestione Klopp secondo me non ha senso tenere fuori giocatori come Salah come Soboslai ecco e vuol dire sottovalutare un po' troppo il potenziale della Dea che ehm era prevedibile no è una partita che la Dea gioca benissimo perché giochi nel suo campo quante volte noi anche quando andiamo a presentare le partite del Napoli io ci tengo sempre a precisare non andiamo a ehm dare vantaggi all'avversario giochiamo il nostro calcio e non pensiamo a difenderci dal calcio degli altri è un po' quello che però ha fatto involontariamente Kloppo perché lì non è che devi adeguarti all'Atalanta l'Atalanta e il Liverpool giocano più o meno lo stesso calcio no? Uomo su uomo lotte a tutto campo sfruttamento nella totalità proprio del terreno di gioco e il l'Atalanta è stata più cinica più brava nel secondo tempo una volta che è entrata all'artiglieria pesante è ovvio che il Liverpool eh andava molto forte a cercare il di accorciare le distanze di arrivare al pareggio e lì è stata bravissima l'Atalanta a sfruttare non solo il gol del 3 a 0 ma anche a fare tantissime occasioni offensive quindi è una partita secondo me indirizzata dal fatto che Klopp ha voluto tra virgolette perché poi Klopp è uno bravissimo snobbare l'evento e partire con una formazione che a me non ha convinto questo ovviamente per chi mi conosce lo sa non vuol dire assolutamente minimamente togliere i meriti all'Atalanta perché per me le squadre quando vincono meritano di vincere per me una sciocchezza dire sì hai vinto perché è stato demerito degli altri no tu nel frattempo vinci per merito tuo poi magari c'è l'avversario che ti ha potuto dare una mano come ho prima spiegato io no magari era era doveva essere diversa la formazione iniziale e lì c'è c'è una percentuale alta che l'Atalanta possa passare al prossimo turno ce l'aveva scritto anche Nando e dice Liverpool con tante assenze ma va bene così ma attenzione al ritorno a Bergamo secondo te c'è c'è da temere del Liverpool certo ma certo perché il Liverpool è una squadra che ti vinci cioè lì ecco lì la mentalità è completamente diversa ecco andiamo a capire anche la diversità dei campionati lì giochi in casa giochi fuori casa cambia tanto perché la mentalità è questa è la stessa e poi proprio negli anni non è un fortino il lo stadio dell'Atalanta se andiamo a vedere per esempio questa è una ricerca che ho fatto ieri sera non so perché ma l'ho fatta tantissimi punti l'Atalanta le ha persi in casa c'è una squadra che gioca molto meglio fuori casa quindi questo è a favore del Liverpool ma poi il Liverpool non è che gli cambia se gioca in casa sua ovviamente in casa sua lì stiamo parlando di di uno stadio bollentissimo però fuori casa se la partita la prepara bene ha dei giocatori fantastici no no stiamo qui ad elencarli. Allora c'è Gianni che si focalizza principalmente su un calciatore perché ci scrive sa sa l'Atalanta ha sorpreso tanto e poi soprattutto che trasformazione De Keteler giocatore che sembra che giochi da una vita a Bergamo sì ma De Keteler è proprio un calciatore che alla fine andava inquadrato andava messo nelle condizioni no quella che è la cosa che cerchiamo di portare avanti ogni giorno la la massima la cosa più importante che deve fare un allenatore è quella di mettere nelle condizioni giuste i calciatori per esprimere le proprie caratteristiche De Keteler è proprio un calciatore che deve essere paradossalmente slegato dal posizionamento tattico soprattutto se lo vai a sfruttare molto sul lato offensivo lui nella sua precedente squadra giocava in un ipotetico 4-2-3-1 che gli lasciava tanto spazio partiva da sottopunta però spesso ha giocato anche esterno a destra con Gasperini ha trovato un allenatore che invece riesce a risaltare proprio tanto le sue caratteristiche e a mi piace pure quando a volte lo schiera come prima punta diciamo ipotetico falso 9 per far capire a tutti ed è per me un giocatore forte e io avanti agli occhi ogni giorno il probabile exploit che può fare per esempio anche l'Istrom perché l'Istrom è un po' come Decatelar secondo me se si lavora bene su Gasper l'Istrom possiamo ritrovare un giocatore veramente che può dare tantissime soddisfazioni al Napoli allora andiamo andiamo avanti con altri commenti ma io voglio ricordare soprattutto ai nostri amici che oggi noi essendo il nostro ultimo giorno prima di Napoli Frosinone facciamo come sempre le probabili formazioni quindi tra pochissimo dopo il primo il primo blocco pubblicitario andiamo a vedere la probabile formazione del Frosinone dopo che voi ci avete chiesto scritto quali sono i vostri dubbi sul Frosinone quali quale calciatore potete temere un po' di più o quantomeno avere un occhio di riguardo per quel particolare calciatore del Frosinone quindi iniziamo a chiedervi a proiettarci anche insieme a voi verso la partita di domenica alla mezza e poi dopo facciamo leggiamo le vostre probabili formazioni del Napoli la probabile formazione di Sasa e poi andiamo a vedere un po' di pronostici proprio per salutarci ed augurarci un buon fine settimana e allora voglio 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 leggere per seguire un po' il discorso che stavamo facendo su Deceteler perché Francesco dice Deceteler Docet abbiamo il dovere di aspettare Lindstrom e Traoré dovremmo avere l'intelligenza di aspettare perché io addirittura vado oltre perché realmente ma lo sai qual è il problema Silvia che a volte si pensa realmente che il calcio sia un videogioco allora tu magari ti compri Deceteler è forte allora è forte fai la campagna acquisti su FIFA ma che ci sta FIFA 2023 non so Monica che giochi sono Fc24 Fc24 brava vedi come sei sempre sul pezzo non ci stai andando e comunque però diciamo nella vita reale non è così ci sono tante cose che bisogna mettere in conto l'ambientamento il periodo della della squadra in cui vai il l'assessamento anche per Lindstrom non è che ci sono problemi che ci per esempio se parli con gli africani e questi questi giocatori che vengono proprio da altri paesi ci sono anche altre cose da aggiungere ma per Lindstrom alla fine lui si è trovato in una confusione tecnico tattica e giocatori con del col col l'estro che a lui si trovano realmente in difficoltà quindi ritornando al commento il nostro amico basta solo un po' ragionarci sulle cose per evitare poi probabili brutte figure perché basta solo mettere in conto questo e capire che ci sono annate dove i calciatori non riescono a esprimere il proprio potenziale quindi sono assolutamente d'accordo con il nostro Francesco ma la stessa cosa vale per Nathan la stessa cosa vale per Cajust su Den Donker non c'è niente da dire la situazione è chiara ed evidente ma è questo che bisogna fare sempre e allora noi tra pochissimo ci fermiamo un secondo andiamo in pubblicità iniziamo a parlare di Napoli Frosinone soprattutto partendo dalle vostre domande quindi mi raccomando iniziamo a parlare di Frosinone vedendo poi la probabile formazione quindi avete un paio di minuti per scriverci il calciatore che vi piace che temete che dobbiamo tenere d'occhio del Frosinone e poi torniamo qui per vedere la probabile formazione insieme a voi e per rispondere alle vostre domande vi ricordo inoltre che potete anche interagire con noi telefonandoci allo 081-19-51-38-36 a tra pochissimo fuori dagli schemi fuori dagli schemi con Sasa Pengue su Radio Napoli Centrale una cittadina tranquilla qua non succede mai niente ho un nuovo gioco per il computer ti va? un evento inaspettato non va più internet mamma la connessione preparatevi per mamma ho perso la rete la tua connessione è un film tragicomico? passa a Eolo internet stabile e veloce nei paesi italiani provaci gratis siamo certi che sarà amore a prima connessione copertura e condizioni su Eolo.it Eolo internet dove c'è un paese auto da city per non vivere cercando parcheggio o SUV per picnic bucolici vista mucche no questo è il mio panino city o SUV city SUV con nuovo Skoda Kamik vivi ogni chilometro in città e anche fuori porta scoprilo con doppio display fari full LED matrix e rear view camera scopri le offerte di aprile in tutti gli showroom Skoda ti aspettiamo anche domenica info su skoda-auto.it per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro è l'energia di Repower efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda elettricità e gas inclusi Repower l'energia che ti serve Kik fa più bella la tua vita dai il via alla primavera con Kik con tanti articoli utili e decorativi per giardini e balconi per esempio sbagliati attrezzi da giardino già a partire da solo un euro e quarantanove solo fino all'eserimento delle scorte Kik il prezzo parla da sé fuori dagli schemi fuori dagli schemi con Sasa Pengue su Radio Napoli Centrale eccoci tornati a fuori dagli schemi con Silvia De Martino e Sasa Pengue qui su Radio Napoli Centrale non solo sul sito www.radionapolicentrale.it sulla nostra applicazione disponibile sia su Apple Store che su Google Play ma anche e soprattutto in diretta su tutti i canali social perché Radio Napoli Centrale è la vostra visual radio siamo in diretta su Facebook su YouTube su Twitter su Twitch e allora potete interagire con noi ma oltre che ascoltarci soprattutto vederci e quindi vedere anche le nostre slide la probabile formazione che andiamo a vedere tra pochissimo scriverci attraverso la sezione dei commenti e così rispondiamo interagiamo proprio con voi vi ricordo tra l'altro che anche se siete all'ascolto potete intervenire tramite il nostro numero WhatsApp 08 1 19 51 38 36 e se ne avete piacere potete anche telefonarci e intervenire direttamente qui chiacchierare un po' con me e con Sasa perché noi abbiamo poi piacere anche a sentire le vostre considerazioni perché qui è come se fosse il prepartita adesso abbiamo le vibes del prepartita perché ci stiamo avvicinando ormai a questo Napoli Frosinone anche se poi il prepartita effettivo su Radio Napoli Centrale lo facciamo domenica alle 11.30 con Ultra dal Divano con Mario Fedele in conduzione poi c'è Sasapengue c'è Umberto Chiariello c'è Francesco Landese Francesco Di Somma insomma c'è tanto 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 da fare qui su Radio Napoli Centrale in vista di Napoli Frosinone ma torniamo ai nostri amici ai nostri amici sui social c'è Gianni che dice Napoli-Atalanta 0-3 Liverpool-Atalanta 0-3 quindi Napoli uguale a Liverpool e non è male magari ok funziona funziona la proporzione c'è potrebbe funzionare c'è Nando che ci dice l'uomo che temo troppo facile sull'e e c'è anche il nostro che dira che dira che poi utilizzato non tantissimo però quando entra incide abbiamo poi letto anche un articolo da fonte che io ritengo abbastanza attendibile che sicuramente lo vedrà molto probabilmente il ritiro con il Napoli come giusto che sia di proprietà del Napoli è un calciatore che secondo me ha bisogno di fare un altro anno questo è contro il mio ideale perché io sono uno che i calciatori li farei giocare sempre però come è la mentalità italiana probabilmente ha bisogno di un altro annetto però deve essere utilizzato con continuità cioè deve trovare una squadra che lo fa giocare proprio titolare qui invece non è stato proprio gestito anche se il Frosinone ha altri problemi da dover affrontare quindi non è stato secondo me di merito del calciatore ma perché giustamente l'allenatore ha scelto determinati attaccanti con altre caratteristiche però che Dira è uno che secondo me riuscirà a imporsi nel calcio in generale lo vedo un calciatore molto molto intelligente è bravo anche a sfruttare il suo ruolo quindi teniamolo d'occhio e allora teniamolo d'occhio teniamolo d'occhio facciamo facciamo attenzione ovviamente vi invito come sempre a scriverci nei commenti quello che è il calciatore che un po' un po' temete ma torniamo sul discorso Lindstrom perché è arrivato più di un messaggio in merito a questo Antonio il nostro amico abbonato al canale di Radio Napoli centrale ci scrive secondo me con il modulo 433 per Lindstrom non ci sarebbe mai stato un posto in squadra con il modulo 4231 può darsi che riesce a trovare la sua giusta collocazione in campo e voglio dire che Gianni bene o male ha scritto lo stesso concetto così rispondiamo insieme Antonio e Gianni perché dice Lindstrom è un giocatore duttile in un 433 va bene anche con geniale metterlo come vice quara ma il 4231 essendo trequartista sarebbe stato più a suo agio sempre se vogliamo fossilizzarci con gli schemi sempre assolutamente entrambi hanno ragione però forse non tanto per ecco qua possiamo fare una precisazione non ci sta bene ma non perché non c'è spazio perché probabilmente lui non è proprio una mezzala cioè potrebbe farlo però ha bisogno di lavorare tanto su quello che è l'utilizzo di quel ruolo perché la mezzala al di là di quelli che sono i principi di gioco perché poi dobbiamo sempre andare a fare questo ragionamento la mezzala di solito ha bisogno di fare un lavoro anche di elastico dalla trequarti a fare anche un po' di fase difensiva e lui secondo me proprio a livello fisico a me ricorda sempre quello step quando Kvara arrivò qui a Napoli ti ricordi com'era non dico esile però era diverso fisicamente non era così piazzato come poi è diventato con la prima gestione Spalletti lui ebbe un cambiamento ma veramente nel giro di due tre mesi e l'istrom secondo me paga anche questa sua struttura fisica cioè non ha proprio la fisicità per fare la mezzala pura e allora ovviamente se utilizzi un sistema di gioco con due mezze ali lui paga spese ne paga le spese no? perché non viene utilizzato sul 4231 logicamente è uno che può ritagliarsi lo spazio o da sottopunta ma lì sì che potrebbe fare probabilmente anche uno degli esterni dei tre alle spalle della punta perché quello è un lavoro che magari hai la possibilità in fase di transizione negativa di avere un aiuto anche dal mediano essendoci due difensori bassi che vanno a fare principalmente la fase interdizione l'esterno d'attacco che deve tornare con forza perché è importante dire questa cosa però ha questo aiuto del centrocampista dal suo lato che gli può dare una mano quindi alla fine ho fatto un giro lunghissimo per farvi capire più o meno solo il concetto e la differenza tra mezzala e tre quarti ma hanno entrambi ragione sia Antonio che Gianni che in questo sistema di gioco lui di base ha difficoltà e mi attacco un attimo e l'esempio lì è lampante anche con Decatelar Pioli Milan rispetto a Decatelar con Gasperini che lo utilizza proprio come dicevate voi allora è una questione anche diciamo un discorso abbiamo fatto spesso di magari non mettere un calciatore nelle condizioni migliori per esprimere il suo massimo potenziale poi è logico che non è che non puoi giocare o devi inevitabilmente giocare male se giochi in quel determinato modulo però magari in un altro assetto sei puoi performare meglio esatto lui per esempio col Bruce lui per esempio col Bruce partiva più o meno sotto punta però lui spaziava veramente senza alcun tipo di problema te lo ritrovavi sull'esterno a destra te lo ritrovavi di fianco all'attaccante ora qui venuto arrivato in Italia con le briglie è normale che tu lo perdi soprattutto in un club come il Milan che ha un allenatore come Pioli che ci tiene tanto ai tatticismi più che alla come posso dire l'interpretazione libera dei ruoli allora qui già stanno iniziando ad arrivare le probabili formazioni del Napoli perché ci conoscono troppo bene lo sanno e allora iniziate iniziate a scrivere anche le probabili formazioni del Napoli che lo sapete la andiamo a vedere tra pochissimo Gianni ci scrive io ragazzi temo la sfrontatezza delle piccole giocano con il sangue agli occhi e specie essendo in trasferta la sentono ancora di più la partita è però qui io ci andrei pianino 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 perché ora la sfrontatezza del Frosinone è un po' scemata perché ora la posizione in classifica è pericolosissima ricordiamo che il Frosinone è terz'ultimo anche se lì ci sono tutti i giochi aperti quindi appena finito la conferenza stampa di Francesco l'ho letta un attimo nella pubblicità e lui dice ci vuole coraggio come è giusto che quindi ritorna va sul discorso che ci fa Gianni però poi finisce la conferenza dicendo eh sì però contro il Napoli abbiamo giocato bene con il 3-4-2-1 che diciamo poi alla fine la formazione che avevo previsto tra poco la facciamo vedere quindi cosa ti fa pensare che ok predichi bene ma razzo di male perché vuoi il coraggio però togli il 4-3-3 che è quello che stavi facendo ultimamente che è un modulo un sistema di gioco abbastanza coraggioso e ritorni con il 3-4-2-1 vuol dire che assorbirà il Napoli a 5 quindi ok il coraggio ha ragione Gianni però io non mi aspetto proprio un Frosinone così sfrontato secondo me cercherà più di uscire da Napoli con qualche punto rispetto a giocarsi la vita perché in una posizione ora dove un tecnico deve giocarsi le sue carte in modo ponderato è un momento dove non deve basarsi sull'estetica ma deve basarsi sulla concretezza no sì 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 invece io cosa ho dedotto che se sapengo hai indovinato il modulo perché ho detto cosa ti deduce da qui che tu hai indovinato il modulo quindi diciamo che quando mi ha detto di Francesco io queste puoi confermare che te le ho mandate le mandate prima le mandate prima sì 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 non potevo farlo e allora tra pochissimo andiamo a leggere anche i giocatori tanto lo sapete poi quella è la formazione ufficiale sarà questa qua di Sasà allora Angela dice secondo me il calciatore che temo di più sicuramente sulle sì sì assolutamente quello più qualitativo io qua credo che non mi non mi inventerò niente è quello che magari in una partita contro una squadra forte che il Napoli è uno che ti può cambiare la cara dai con la sua qualità allora ci scrive Marco Marco ci scrive da da Whatsapp e dice salve ragazzi onestamente non si può sentir parlare di Pioli il suo calcio a difese schierate è lento e mediocre visto il suo calcio a difese schierate lento e mediocre è visto ieri sera rabbrividisco per me serve Conte o se fosse stato possibile avrei preso un altro grandissimo come Gasperini come ho sempre detto e in ultimo prenderei italiano io non ci andrei così pesante contro Pioli perché poi Pioli negli ultimi anni ha fatto vedere un bel calcio quindi non sono proprio d'accordo con Marco però ovviamente lì parliamo sempre di opinioni quindi il calcio è bello anche per questo Gasperini ragazzi Gasperini è un ottimo allenatore però ricordiamoci che Gasperini tendenzialmente svilisce tutte quelle che sono le qualità tattiche e tecniche scusatemi dei calciatori quindi a me piace sì è un calcio produttivo nì perché poi tutti portano in alto l'Atalanta che non fatevi ingannare quest'anno ha una grandissima rosa perché molti non sottolineano sta cosa che Scalvini è un grande difensore Jim City è un difensore assolutamente all'altezza e poi ci abbiamo Kolasinac che è un giocatore che ha o Kolasinac scusatemi sempre le pronunce che è un giocatore che viene dalla Premier è un altro livello abbiamo parlato del centrocampo Teron Kupmeiners no Pasalic Miranciuk Elbilal Touré Scamacca Lucman Zappacosta Ruggeri qui si passa un po' qua si fa passare l'Atalanta come la squadra scarsa e quindi probabilmente alla lunga Casperini ottimo allenatore che però diciamo non è che poi fa uscire tanto dalle sue squadre è un'analisi che ci tenevo sempre a fare ringrazio Marco che mi ha dato sto spunto perché ecco vorrei vedere altri allenatori con questa rosa dell'Atalanta e ti voglio stupire oggi secondo me la portano più in alto non lo vedi Casperini come come si sta dicendo soprattutto in questo in questo momento o come un un caposcuola del calcio ma a me a me non piace solo per allora Casperini è uno che ha cambiato proprio il modo di vedere il calcio citato anche da De Zerbi citato anche da Guardiola perché ha praticamente portato questo questo gioco uomo su uomo non dico che è stato il precursore ma è stato uno di quelli che hanno portato avanti una teoria insieme a Juric e insieme anche per esempio a Tudor che è uno che lo sta portando però lì secondo me dobbiamo fare una dobbiamo chiarire una cosa su quel modo di giocare calcio di quel modo di fare calcio perché in quel modo ecco butti tutto sulla battaglia a me non piace tanto quando il calcio poi completamente passa alle sole lotte uno contro uno perché in automatico lì poi vai a depauperare quello che è proprio il potenziale ma non parlo parliamo del lato economico ma bypassiamo secondo me per fare quel calcio non hai bisogno poi di giocatori così forti perché li porti a fare un qualcosa che non è congeniale perché ci tengo scusami se mi prolungo perché noi diciamo sempre però quello all'Atalanta era forte andato via non era poi un gran che perché tendenzialmente Gasperini li utilizza come soldatini ma nel senso negativo della parola perché quando vanno via da lì poi si trovano quasi a brancolare nel buio perché li utilizza utilizza i calciatori solo con uno barra due scopi andate a fare la lotta seguite il riferimento uomo su uomo e io non sono convintissimo che sto calcio poi è così tanto produttivo quindi io continuo sempre a portare la mia tesi avanti io sono uno poi preciso a me non piacciono tanto gli allenatori così e ogni volta che ne parlo mi convinco sempre ti dai le motivazioni giuste per crederla in questo modo sì sì perché trovo cioè trovo sensato il mio ragionamento ma non è che mi voglio no vabbè ci mancherebbe altro è il tuo ragionamento allora c'è Napoleone che ci dice temo a Rui ma anche il nostro che dira a lui non c'è è infortunato cioè l'ha detto ora ha detto ora in conferenza sì sì vediamo la probabile formazione del Frosinone vai vediamo la velocissima ragazzi allora il Frosinone dovrebbe giocare così ecco ipotizzando che lui poteva venire a giocare parlo di Di Francesco con il 3-4-2-1 potrebbero essere questi gli interpreti Turati Lirora Romagnola Romagnoli e Ocoli i tre difensori i quattro centrocampisti ho scelto Zortè e Valeri sulle fasce con Mazzitelli Mazzitelli e Barrenece al centro proprio per far sì che in alcune fasi di gioco può diventare facilmente un 4-3-3 perché o scivola Valeri che nasce terzino o lo fa Zortea che può giocare anche da esterno basso quindi è tendenzialmente una formazione che può anche cambiare nel corso della gara in avanti inserisco su Lecce d'Ira e qui scelgo Brescianini anche se potrebbe giocare anche Renier perché se ipotizzano una partita con blocco basso quindi giocando più o meno un po' più accorti più attenti potrebbero scegliere anche Renier e questo calciatore molto talentuoso che diciamo nelle ripartenze potrebbe essere più forte più bravo qualitativamente però di base secondo me la scelta ricadrà su Brescianini che è un tre quarti più difensivo che ti può dare un po' più di quantità quindi secondo me potrebbe essere questa la formazione di 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 Francesco allora il modulo l'abbiamo indovinato questo lo possiamo dire il modulo l'hai preso vediamo un attimo che cosa ci sono due sasa ho fatto apparire due sasa un sasa sopra l'altro allora qui già sono arrivati un sacco di formazioni del Napoli tra pochissimo ne andiamo a vedere e voglio leggerti qualche commento perché Antonio scrive se arrivasse italiano lo vodka trova spazio nel suo 4231 assolutamente si già se vediamo lui come utilizza per esempio Maxime Lopez Arthur lui che poi lui 4231 così è così perché oramai italiano fa 5-5 fa 3-7 sta già verso la dimensione di quello che io vi dissi mesi e mesi fa perché meno male che le live qui rimangono sempre sul web vi dissi che prima o poi arriveremo a tu te lo ricordi perché sei sempre attentissima giocatori difensivi e giocatori offensivi ti ricordi quando ti dissi questa cosa italiano va cioè Guardiola già lo fa Xabi Alonso lo fa no cataloga quelli che sono i giocatori che devono andare a attaccare e quelli che devono rimanere un po' bioccati per andare a difendere quindi perché mi unisco poi alla risposta al nostro amico perché lo vodka potrebbe essere inserito tra quelli magari è un centrocampista mediano che però quando fai la fase di costruzione oppure quando vai a fare lo sviluppo lo cataloghi per esempio lui come giocatore offensivo quindi lo lasci libero di andare pure a fare la regia un po' più avanzata e magari il suo compagno di reparto lo lasci invece a fare quella che è la fase di interdizione è proprio questo che italiano sta cercando di fare e lo abbiamo visto chiaro ed evidente contro l'Atalanta appunto quando lui vince 1-0 ma vediamo che nei due mediani mette due giocatori particolari perché gioca con Arthur e con Mandragora e Bonaventura che è tutto su tranne che centrocampisti difensivi cioè per farvi capire come ragiona quindi va a fare una formazione in base a quello che vuole fare in campo più che allegarsi alle caratteristiche dei giocatori voglio rimettere un attimo la formazione del frosinone perché c'è Pietro che dice Sasa ma come si spiega una flessione così drastica del frosinone avendo iniziato alla grande oggi è quasi in serie B è vero ha ragione ha ragione Pietro inspiegabile perché in una parte della stagione loro hanno giocato benissimo però non sono mai riusciti a portarsi i punti a casa e ti parlo di un momento centrale della stagione da lì sono andati un po' in blocco mentale cioè hanno fatto delle partite così e così per la frenesia di dover fare punti e si sono ritrovati in questa posizione e poi torniamo sempre al piccolo difettuccio che a me io lo sé lo evidenzio ma mi piace che ci sono tanti giovani che qualche volta nelle partite diciamo hanno poca esperienza dai perché poi un po' di esperienza ci vuole ma l'esperienza è un fattore importante poi diciamo questa tua risposta ci sottolinea anche quello che diciamo spesso cioè che ci sono sempre più fattori che vanno poi a determinare il calcio ma in realtà qualsiasi anche sport perché è logico che tu giustamente dici hanno avuto un momento in cui hanno giocato bene non arriva il risultato o magari raccogli meno di quanto dovresti allora inizia a subentrare anche il problema psicologico motivazionale poi a un certo punto resti imbrigliato nelle parti basse della classifica ovviamente l'ansia magari ti porta a strafare laddove un giocatore magari di esperienza e qua ritorniamo anche alla giovanità ha più il polso della situazione e quindi ci sono tutti i vari fattori che si intrecciano poi in questo c'era un altro commento sul Frosinone che volevo leggere perché era questo di Antonio che dice ragazzi se ci mettiamo paura del Frosinone è finita rispetto per tutti paura di nessuno si dice no? però rispetto per tutti ragazzi non sottovalutiamo le partite già l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto pure col Frosinone tra l'altro ma raga la chiave del calcio io vi invito sempre a dire una cosa guarda questo è bellissimo questo esempio quando andate a fare la partita di calcetto avete mai detto vabbè questi sono scarsi di fronte no la partita si gioca però ecco ma mica scendi a fare una partita no mamma mia che paura mo perdiamo no però rispetto e non pensare di aver già vinto perché quello è ancora più nocivo di avere paura sì perché non ti sprona poi a fare del tuo meglio perché pensi di poterla vincere in ciabatte sul divano ecco c'è meglio la paura paradossalmente che la la sicurezza di dire siamo più forti bravo sono d'accordo sono d'accordo e allora ragazzi abbiamo analizzato il Frosinone ma io vedo che qui stanno arrivando tantissime probabili formazioni del Napoli e allora continuate a scriverle un paio di minuti breve spot e torniamo con la probabile formazione del Napoli fuori dagli schemi fuori dagli schemi con Sasa Pengue su Radio Napoli Centrale una cittadina tranquilla qua non succede mai niente ho un nuovo gioco per il computer ti va? un evento inaspettato non va più internet mamma la connessione preparatevi per mamma ho perso la rete la tua connessione è un film tragicomico? passa a Eolo internet stabile e veloce nei paesi italiani provaci gratis siamo certi che sarà amore a prima connessione copertura e condizioni su Eolo.it Eolo internet dove c'è un paese auto da city per non vivere cercando parcheggio o SUV per picnic bucolici vista mucche no questo il mio panino city o SUV city SUV con nuovo Skoda Camic vivi ogni chilometro in città e anche fuori porta scoprilo con doppio display fari full led matrix e rear view camera scopri le offerte di aprile in tutti gli showroom Skoda ti aspettiamo anche domenica info su skoda-auto.it per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro è l'energia di Repower efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda elettricità e gas inclusi Repower l'energia che ti serve Kik fa più bella la tua vita dai il via alla primavera con Kik con tanti articoli utili e decorativi per giardini e balconi per esempio svariati attrezzi da giardino già a partire da solo 1,49 euro solo fino all'eserimento delle scorte Kik il prezzo parla da sé fuori dagli schemi fuori dagli schemi con Sasa Pengue su Radio Napoli Centrale Napoli-Frosinone il prossimo match in calendario per gli azzurri di Mister Calzone ci stiamo preparando insieme a questa partita ma vi ricordo che su Radio Napoli Centrale non finisce oggi la preparazione a Napoli-Frosinone perché domani c'è l'edizione anticipata di un calcio alla radio quindi dalle 12 alle 14 con i nostri ospiti del sabato con me e con Umberto Chiariello andiamo ovviamente a parlare di questo match domenica il pre-partita l'intervallo e il post-partita con Mario Fedele e i suoi ospiti quindi con Sasa Pengue con Umberto Chiariello con Francesco Landese Francesco Di Somma con tutto lo staff di Ultradaldivano andiamo a vivere insieme l'ansia del pre-partita a commentare l'intervallo e a commentare poi il risultato finale di Napoli-Frosinone ma qui oggi noi andiamo a fare le probabili formazioni Frosinone già l'abbiamo analizzato già ci siamo preparati qui nel mentre arrivano tutte le vostre formazioni che andiamo a leggere tra pochissimo andrei prima a vedere qualche commento e poi andiamo ad analizzare quelle che sono le vostre probabili formazioni e le probabili formazioni la probabile perché le probabili la probabile formazione di Sasa Pengue allora Sasa arriva un messaggio su Whatsapp da Marco che dice Sasa io ti ascolto con molto piacere però non riesco a capire come fai a dire che il calcio proposto da Gasperini in questi anni non sia anche di livello tecnico importante o addirittura poco produttivo per me con la stessa rosa un altro allenatore difficilmente potrebbe fare meglio o uguale a Gasperini forse Tudor ma non meglio secondo me ma ripeto perché Marco secondo me ripeto c'è questo errore di base errore per me clamoroso raga la Atalanta non è scarsa per me l'Atalanta è cinque volte più forte della Fiorentina almeno cinque categorie di più della Fiorentina quindi per me Gasperini non sta facendo nessun miracolo raga perché per me l'Atalanta potrebbe stare sempre più in alto e ricordatevi che l'Atalanta difficilmente arriva in Europa tutti gli anni quindi bene il calcio di Gasperini ci mancherebbe però non sottovalutiamo l'Atalanta che è l'errore che fanno tutti c'è l'Atalanta in questo momento ha il miglior centrocampista della Serie A cioè non ce l'è l'Atalanta e io ti chiedo e io ti chiedo se mi hai vedi perché devo bloccarti perché Chanel dice al posto di Osimena cosa ne pensi Scamacca ora puoi continuare Scamacca è il mio pupillo lo sanno tutti Scamacca è uno che io adoro quante volte volevo leggerla prima che lo dicessi a me piace il colloquio con Marco perché realmente voi pensate che l'Atalanta sia scarsa ragazzi voi pensate che l'Atalanta non abbia una rosa forte allora probabilmente sbaglio io ma ripeto il centrocampista migliore della Serie A è Cup Miners non lo dico io c'è Deron c'è Ederson che è un box to box che è un giocatore fantastico Deron che è un metronomo che invidiano un po' quasi tutti c'è Scalvini che è il talento numero uno c'è Carnesecchi che è etichettato come il miglior portiere raga qua secondo me stiamo sottovalutando l'Atalanta Lucman un fenomeno che arriva per 30 milioni dalla Liga è Decatelar che lo stiamo noi etichettando sempre Zappacosta è uno che ti fa legna Baccher Colasinac Ruggeri cioè qua secondo me stiamo etichettando l'Atalanta come il Frosinone per me 5 volte più forte della Fiorentina lo dico oggi e per me anche più forte della Lazio e paradossalmente anche della Roma poi se vogliamo di che Gasperini fa il miracolo con sta squadra io ribadisco vedi come poi mi autoconvinco vorrei vedere l'Atalanta con un altro allenatore a questo punto perché per me che cosa mi sta arrabbiando? secondo me sì secondo me non è d'accordo mi piace Gasperini eh sì non gli dispiace però rispondimi a Chanel che dice al posto di Ozyman Scamacca Gianluca Scamacca a Zingone spaccò tutto mi sembra c'è una cosa ma non mi ricordo se a Zingone o in Inghilterra mi sembra in Inghilterra cercatelo comunque fece una cosa strana è un ragazzo che ecco va va gestito perché probabilmente non mi convince tanto caratterialmente capito però ha un potenziale io adoro per me il nove nove totale è un calciatore fantastico Napoleone dice l'Atalanta ha troppi cali nel corso delle varie stagioni il presidente ci sa fare veramente e tiene a posto i conti come il Napoli ma in più hanno una cura del vivaio maggiore assolutamente sì è proprio la loro cioè la loro storia no? utilizzano molto bene il vivaio e secondo me questo è uno dei problemi che poi passano cioè perciò ci sono i problemi di risultati perché molte volte è uscita pure quella storiella che io la voglio chiamare storiella perché non mi permetto di dire che verità che ci fa sapere che Gasperini prenderebbe anche una parte dalla vendita di questi calciatori che lui tra virgolette mette poi in campo e se fosse così allora si capisce perché poi a un certo punto l'Atalanta crolla perché se chi l'allena ha più interesse a far uscire i giocatori che a vincere le partite questo potrebbe essere un motivo perché l'Atalanta non c'è tra per me l'Atalanta può essere tranquillamente tra quelle tra quelle quattro e ripeto ma non è che voglio fare il giochino ma i giocatori li avete visti cioè i giocatori sono quelli e poi ecco cioè Scalvini noi lo volevamo pagare 50 milioni per farlo giocare al Napoli poi però all'Atalanta vabbè con l'Atalanta mica è forte e però Scalvini 50 minuti lo vogliamo dare 60 cupo minors cioè quindi capito lì secondo me c'è un cortocircuito quando si parla dell'Atalanta non tanti mettono mettono sottolineano questa cosa sì 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 è vero è vero è vero allora allora ma non so come si sono fatte le 15 e 54 in tutto ciò non lo so proprio e allora fammi fare velocissimo prendo fiato la lettura delle formazioni dei nostri amici Joe 433 Meret Di Lorenzo Rachmani Juan Jesus Mario Rui Lobo Zieliski Frank Anghissà Politano Osiman e Quara Schelia è la formazione scudetto dice Joe eccetto Kim ovviamente ovviamente andiamo da Gianni che dice Meret Di Lorenzo Rachmani Ostigard Mario Rui Anghissà Lobotka Cayus Politano Osiman e Quara Schelia quindi un po' di cambi per Gianni Nando dice 433 Meret Di Lorenzo Rachmani Juan Jesus Mario Rui Lobotka Anghissà Zieliski Politano Quara e Osiman tra l'altro Nando ci dice oggi la formazione è facile non la sbaglia nessuno Antonio dice Meret Di Lorenzo Rachmani Nathan cioè Nathan Mario Rui Cayus Lobotka Traore quindi senza Anghissà e senza Zieliski Politano Quara Schelia e Osiman lì davanti Pietro ci dice Meret Di Lorenzo Rachmani Juan Jesus Nathan Nathan sulla fascia sì vai ok Zieliski Lobotka Anghissà Quara Osiman Osiman e Raspadori esotica questa qua di Pietro Antonio dice 433 Meret Di Lorenzo Rachmani Nathan Mario Rui Lobotka Cayus Raspadori Politano Osiman e Quara Schelia ok aspettando il mio allenatore preferito italiano con il suo bellissimo 4231 Napoleone Meret Di Lorenzo Rachmani Nathan Mario Rui Lobotka Anghissà Zieliski Lingong Quara Schelia Osiman quindi vedi un po' di inserimenti ci sono stati cioè molti mettono Nathan molti ci mettono Nathan fammi vedere cosa manca Francesco Meret Di Lorenzo Mario Rui Rachmani Juan Jesus Anghissà Zielinski Lobotka Quara Osiman e Politano chiudo con la nostra Angela che dice Meret Di Lorenzo Rachmani Juan Jesus Mario Rui Zielinski Lobotka Anghissà Quara Schelia Osiman e Politano se sta bene scusate ho preso il report dell'allenamento comunque Jesper ok allora io vado velocissimo vado velocissimo allora aspetta arrivo giustamente la devo mettere vai sì allora io parto dal presupposto che secondo me non si cambierà tanto in base a quello che abbiamo visto a Monza e non lo so allora a me piace tantissimo quando Politano subentra in Gong non c'è perché è squalificato se no io ero sicuro che paradossalmente si potesse partire di nuovo con Gong quindi però Listrom non lo so non lo so se riesce ad inserirlo dal primo minuto anche se a me io lo metterei dico la verità però parto con Politano ah beh devo partire da lì scusate ho sbagliato allora Meret di Lorenzo Rachmani Juan Jesus e Mario Rui secondo me anche la gestione di Juan Jesus ci fa capire che giocherà di nuovo lui sapete come la penso io farei giocare altri Nathan no perché secondo me la gestione di Nathan così d'amblè all'improvviso da titolare non la vedo al massimo ma vista la gestione durante la settimana per me giocherà ancora Juan Jesus a sinistra staffetta chiusa quindi se non c'è Olivera Mario Rui anche Salobot e Zelischi secondo me ripartiamo almeno con la sicurezza di quella manovra a centrocampo avendo ritrovato un Zelischi nuovo e in avanti secondo me non riusciamo a vedere dal primo minuto Lindstrom ma probabilmente potremmo vederlo in partita quindi Politano Simen e Quaraschelia perché anche su Politano secondo me è stata una gestione non credo che ci siano problemi l'ho messa lì velocissimo così leggiamo i pronosti sei muta sono muta avete ragione dicevo abbiamo letto la probabile formazione di Sasà quelle dei nostri amici mancano due minuti e quindi scriveteci i vostri pronostici per Napoli Frosinone nel mentre io continuo questo dibattito perché mi piace con Marco che risponde e dice non è scarsa l'Atalanta ci mancherebbe ma è una squadra organizzatissima e tu ci puoi insegnare su questo ma se pensiamo alla Roma due mesi fa che non faceva due passaggi di seguito e adesso con De Rossi si capisce che l'allenatore bravo serve per esaltare delle buone rose a ottime e viceversa comunque io prenderei Luca ah e Luca anche un altro grande attaccante bravo Marco sì ma no ma io sono d'accordo allora ecco non è che io sto facendo io contro Marco ci mancherebbe però ripeto io sono del parere che di Casperini si parla pronostici nel frattempo scrivete pronostici io sono capito secondo me si parla troppo 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 bene di Casperini e io invece reputo che è troppo legato al suo gioco e secondo me per il potenziale che ha soprattutto quest'anno potrebbe anche modificarlo un po' in bene quindi ma non è che sto dicendo che Casperini è l'ultimo arrivato però io ovviamente in base a quello che è il mio ragionamento sul calcio preferirei altri e chiudo dicendo che sto d'accordissimo con Luca Luca è un altro giocatore che secondo me prenderà spazio viene da quell'esperienza all'Ajax non proprio brillantissima però arriva in un Ajax allo sbando è stato anche sfortunato Luca perché arriva lì in un momento particolare quindi sono d'accordo con Marco ottimo Luca buonissimo attaccante allora ti leggo qualche commento Gianni dice italiano è un pressing asfissiante ti rimonta il campo con un'aggressione alta in blocchi Sasa ha una domanda come vice lo botca ti piacerebbe se venisse italiano allenatore Maximo Lopez quest'anno mi ha deluso tantissimo 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 e nella formazione che faremo vedere diciamo appena possibile ce l'ho io il vice ce l'ho botta ah vado come mi piace questo gioco vabbè piano 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 vedi facciamo facciamo un po' di hype veloce qualche pronostico ne leggo pochi veramente dobbiamo siamo in chiusura c'è Francesco ci dice 4 a 2 Osimène 2 gol Quara e Anghissà per Frosinone che dira e sulle 3 a 1 dice Antonio Gianni ci dice pronostico Costanza e spirito di squadra per tutti i 90 minuti 4 a 1 Pietro per il Napoli ci ridiamo i gol presi dalla Coppa Italia forza Napoli sempre 2 a 1 Quara Osimène e Pietro ci dice per me ne facciamo 5 e allora ce ne andiamo così con questo spirito un po' felice se non muoio prima ma va bene così e allora ragazzi grazie per essere stati con noi un'altra settimana insieme torniamo lunedì con Fuori dagli schemi ma vi ricordo come vi ho detto prima che ci sono tanti tanti altri appuntamenti tra sabato e domenica per vivere insieme la partita Napoli Frosinone e allora noi ci ritroviamo con Fuori dagli schemi lunedì io torno con Umberto lo sapete domani alle ore 12 e allora grazie a tutti e a presto ciao ragazzi